Sì, avanti, avanti, è aperto Ah, Mattias Patti, come va? Bene, ma che ci fai tu qui? Sono venuto qui da te per darti una cosa che ti appartiene Cosa? Oh, ma è il mio diario! Il mio diario! L'hai recuperato, Mattias! Che bello! Ma l'hai letto, Mattias? Hai letto il mio diario? L'hai letto, Mattias? No, no, Patti, come avrei potuto? Non sono capace di una bassezza così Io non invado l'intimità delle altre persone Questo è un sollievo, sono così contenta Ma non perché ho scritto delle cose brutte, affatto, eh Te la posso fare una domanda? Sì, 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 certo che puoi C'è qualcosa che io non posso sapere No, assolutamente no Non c'è niente che non potresti leggere, no Adesso che ci penso, Mattias Come hai fatto ad avere il mio diario, eh? Come? Dato che sapevo che stavi male per questa storia E visto che non mi è piaciuto quello che ha fatto Antonella Gliel'ho preso di nascosto L'hai fatto per me, Mattias Ma certo, per te siamo amici, no? Quindi Antonella non sa che non ce l'ha più lei E che tu ve l'hai riportato? No, e quando non lo ritroverà non le piacerà per niente E che tu ve l'hai riportato?